La festa della donna rischia di diventare un giovedì nero per i trasporti, infatti domani sarà sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base al quale si unirà l'agitazione nel trasporto aereo. Ad incrociare le braccia saranno innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori aderenti all'USB che ha deciso di far sentire la propria voce. In occasione dell'8 marzo scioperi sono previsti in più di 70 paesi e delle molte manifestazioni contro la violenza sulle donne. L'agitazione interesserà anche scuola e sanità ma a rischio è soprattutto il trasporto pubblico locale. A Roma la stensione durerà da mezzanotte alle 21, due le fasce di garanzia fino alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20. A Milano la protesta andrà dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. A Torino stop di 24 ore con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sciopero di 24 ore anche a Napoli e fasce garantite dalle 5 e 30 alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20. Le agitazioni nel trasporto aereo interesseranno uomini radar dell'ENAV, assistenti di volo all'Italia, 130 i voli cancellati e assistenza a terra degli aeroporti romani. Per quanto riguarda le ferrovie, Trenitalia ha assicurato la regolarità di frecce e treni regionali nelle fasce più frequentate. Alla preoccupazione per i disagi di domani si unisce quella per le tante crisi industriali. Mentre in corso l'avvertenza è in Braco, a Torino da stamane sono in agitazione permanente i lavoratori di Italia Online dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione che prevede 248 licenziamenti, 241 trasferimenti a Milano e di fatto la chiusura della sede torinese. Ora si attende l'incontro al Ministero per lo sviluppo economico il 16 marzo. Noi sicuramente cercheremo in qualche modo di portare avanti un percorso di chiarezza e trasparenza, cercando quel confronto che confronto deve essere.